Ciao. Bentornato al programma tv di oggi con notizie come. Michelle Unziker in lacrime sui social. Ma la reazione improvvisa ha un motivo più che valido. A riprenderla, questa volta, è stata la figlia Aurora Ramazzotti. Quest'ultima. Non ha potuto fare a meno di sorridere per la scena che ha visto. Michelle Unziker non perde mai occasione per pubblicare contenuti sui social. Da sempre è molto attiva. Sia su TikTok che sul suo profilo di Instagram. Proprio nella giornata di ieri 27 maggio, ha mostrato la mamma in e che in tutta la sua bellezza e ha svelato il suo segreto per una pelle perfetta anche all'età di 80 anni. La showgirl ha da sempre avuto un rapporto molto profondo con la mamma. Come lei stessa ha raccontato sui social svariate volte e anche in diverse interviste. In ogni caso, Michelle è da sempre molto vicina a sua figlia Aurora. Soprattutto adesso che è nato il nipotino Cesare Augusto. Aurora Ramazzotti sta vivendo al meglio questo periodo nel quale sta affrontando una delle fasi più difficili della maternità. Infatti, insieme al suo compagno Goffreda Cerza, sta vivendo i primi mesi di suo figlio Cesare Augusto. Nato solo qualche mese fa. In tanti, tra l'altro, si sarebbero aspettati che Aurora annunciasse l'arrivo imminente di un matrimonio. Ma non è così. La figlia di Michelle Eros ha chiarito più volte sui social che non è disposta, almeno per il momento, a sposarsi. L'anello prezioso che aveva mostrato qualche tempo fa sui social. Altro non era che un regalo del fidanzato. Ma non c'era stata nessuna proposta. Michelle Hunziker scoppia in lacrime. Ma il motivo è più che valido. In una delle ultime storie che Aurora ha pubblicato su Instagram, postata poi nuovamente dalla mamma Michelle, si vede quest'ultima scoppiare in lacrime improvvisamente. La reazione, però, ha un motivo più che valido. La Hunziker stava dando il latte al nipotino Cesare Augusto e questo tenero gesto ha scatenato in lei una reazione improvvisa. Il tutto, dunque, è nato dall'affetto che prova per il nipote e dal fatto di poter riprovare le sensazioni che molto probabilmente ha vissuto con sua figlia precedentemente. Inoltre, la Hunziker non si è mai tirata indietro, soprattutto in questo periodo. Si è sempre mostrata molto disponibile ad aiutare sua figlia Aurora con il bambino. Non è la prima volta che la vediamo allattare Cesare. Inoltre, Aurora si è attrezzata bene. Usando un baby wearing. Ossia una fascia per portare il bambino sempre con sé in sicurezza e svolgere le normali attività quotidiane. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale. Per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. Grazie a tutti. Grazie a tutti.